Bentornati, bentornati su Cave Game, ci eravamo lasciati in questa tomba d'assassino quindi cerchiamo andare avanti e ritrovare il punto esatto, cerchiamo anche di ricordarci i tasti visto che ci siamo, allora, tutt'alti che smetto per un mese proprio nulla di tasti, è un disastro, va bene interagiamo si, abbastanza familiare non mi ricordo più ok bini sembra incredibile dimenticarsi le cose, poi sembra incredibile come sia facile sono andata qua devo andare qui qua, no? se non sbaglio quando si gioca costantemente, sono facili i tasti, se no, quando si mette per un tempo un po' diciamo consistente diventa più difficile ricordarsene che cosa ha un viso eccolo lì, lì no secondo me sono persone importanti come volevi tu vini una biblioteca questa non so se quello la non l'ho ancora visto se mi ricordassi come si fa beh ok come si fa già ho già incontrato bc aspettate un momento tenete le posizioni come vi ho insegnato i i i i i i i i Comunque Adesso siamo qua Evidentemente dobbiamo arrivare E' vaffanculo anche Tutte le volte che voglio usare Non funziona E' impazzito l'altro Qui c'è un uomo alto Vabbè Ciao cervo Vieni Ciao La c'è una guardia Che però non ci viene Vieni Ok Il nostro amico E' deceduto Prossima zona Interessante Quindi I primi passi Sembrano scontati Sembra Tu magari c'è la prega cura Sei contento Sei a posto Bini Il prossimo Non c'è qua Beh non mi sembra difficile Questa cosa qua Arriva il mio Solito gatto Purtroppo Purtroppo non posso Lanciarli No Mori Muerto Purtroppo Purtroppo Adesso Purtroppo 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 Andiamo adesso Sono un po' Confuso Dove devo andare Sono questi qua Come faccio La guardia Lassù Non fate caso Arriverà Il solito gatto Interferenza Un vete appoggio L'abbia 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 Gli cosa Qualcosa No a meno che la finestra non servono d'appiglio esatto adesso devo farti un giro su eccoci arrivati più facile questa aspetto l'altra dipendiamo questo qua dipendiamo quest'altro ma non è obbligatorio uccidirli oggi tu poi mi diverto ucciderli ma se qualcuno vuole fare tutta questa senza ucciderlo un po benissimo non ucciderlo non è obbligatorio uccidere le guardie riuscire passando la botola in alto l'impresa qua non c'era lancio pugnali avambera qui non è come in altri giochi dovremmo distruggere tutto anche per un gioco un po vecchiotto quindi a list di strutturità dell'ambiente limitata è tutto andiamo usciamo da questa scritta tomba come doveva chiamarla ora ci manca ancora fare in questa in questo paesino da toscana non credo ci manchi molto adesso come sapete io posso registrare in 4k e poter renderizzare i video in 4k non so cosa lo farò ma potrei farlo adesso ho il pc su un schermo 4k e c'ho anche il portatica su 4k quindi non ho più un collo di bottiglia come vedete delle versioni ho lo schermo white screen dell'asus e quindi si può fare devo sapere quanto tempo ci metto renderizzarlo a 4k e soprattutto quando ci metto caricarlo su youtube ok salto la fine adesso la mappa è no questa ok qui abbiamo fatto tutto ne se dentro questa città cosa che manca non ricordo si ok quindi andiamo a risolvere questo questa missione principale di muovere che non è anche tanto distante dove è sarà su qualche tento probabilmente quindi andiamo su decisamente se qui Jacopo da parte fino a incontro dei templari poi assassinano mi sembra ovvio che che è che devo se riesco a tenere a freno la lama e a seguirlo mi condurrà dai suoi fratelli templari avrò altri nomi per il mio elenco è che e Grazie a tutti. C'è una guardia che segue le parti adesso. Perfetto. Purtroppo le perdo però... Ma si può essere più goffi di così. Dovrai farti frustare dalle guardie finché l'asperto non ti porta via la pelle. Che state complottando tu e gli altri, Jacopo? Coraggio signore, menate per venti... Oh, vedi il mio... Cosa? Oh, il segno. Il mio cuore è ragazzo. Certo. Non è un po'... Lassù sopra un petto nascosto l'eroe si muove raggi nel vento. Non è un po'... Non è un po'... Non è un po'... Non è un po'... Salve, come sta il vostro cugino? Non è un po'... Venite gente ad ascoltar la storia di un uomo da mare E gli lotta contro i potenti menando i suoi pendenti Non c'è niente per te qui Nella lettera c'è una via Venezia Ci sono altri templari anche lì? Ho capito che da lì non ci passa Cerchiamo di... Sappiamo dove va, no? Adesso... Facciamo così... Prendiamo la larga... Prendiamo la larga... Prendiamo la larga... Quanto adesso lo vedo passar via... Quanti altri sono responsabili della morte di mio padre? Prendiamo la larga... Uriamo sto incontro... ci l'abbiamo fatta la sua impazienza l'ha reso avventato, ho tentato di essere la voce della ragione più che altro la voce della codardina proprio voi parlate signor barbarico se ci aveste mandato armi di qualità invece di questo ciarpame che voi veneziani chiamate armi ci siamo fidati della vostra famiglia e ci avete ripagato con inazione e incompetenza quindi chiamato a rispondere del fallimento, inventate scuse e ci insultate come vi aspettate che reagisca? non saprei sta bene lo so io no vi prego non vi prego non che cosa posso rimediare solo risparmiatemi no che l'ordura mi spiace averti strappato la preda assassino credevi davvero che non mi aspettassi la tua presenza? che non l'avessi voluta? che stronzo sono metodi che usiamo da molto più di te uccidetelo uccidetelo me l'avevo detto me l'avevo detto prossimo prossimo io mi spiace mi spiace mi spiace mi spiace mi spiace mi spiace ora Mettiamola a prova con il vecchio trucco del cavo. Mettiamola, facciamola finita! Ora! Aspettiamo il momento giusto! Ora! Altiratelo, prendetelo all'estate! Tenete duro! Prima o poi si stancherà! Forza! Ora! Prendetelo! Ricordatelo all'estate a mezzo! Via! Ora! Ora! Forza! Forza ora! State calmi! Ora! Sì! Prendetelo assente! Sì! 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 Qua sera la cosa! Sì! Sì! non andrai lontano ora date l'esercitazione prendetelo e continua anzi male qua ah il vecchio cazzo lo sentiamo mi piace il bicchiere verde sull'inscrime bene sequenza 5 completato si smonta tutto repubblica fiorentina 1480 mappa beh c'è la solita tomba e missione ma direi che al momento andiamo avanti con la storia al prossimo ricordo che si trova dal signor medici arriva un'altra interferenza insomma quindi parliamo con l'incontrino è un'altra l'incontrino non avrei mai pensato di desiderare tanto la morte di qualcuno neanche io Ezio ti ringrazio per aver mantenuto in vita un poco più a lungo questo mio sogno l'onore è mio l'onore è mio signore cosa farai adesso figliolo ci sono ancora altri che devo trovare stanno già piantando i loro appigli nel cuore di Venezia no la bella Venezia allora è lì che deve condurti il tuo viaggio prima che tu parta ho qualcosa per te un dono questa cappa ti identifica come amico dei medici finché l'indossi le guardie saranno più indulgenti nei tuoi confronti vada però essa non ti garantisce l'immunità dalla legge che la fortuna favorisca la tua lama hai ottenuto la cappa medicia? ok quindi potrò entrare nell'incipio un gatto che fa casini no vabbè è indietro io voglio una mappa non voglio il medici questo cos'è? obiettivo e quindi se non volesse non la volevo fare lo faremo dopo però ho preso ora andiamo all'obiettivo l'immunità 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 e quindi non la volevo faremo l'immunità guarda che non si può mica mi scusi che c'è qua va bene grazie scusatemi io volevo solo entrare grazie diciamo che Ezio è un materialista non credo che mi serviate però eccoci qua il nostro obiettivo e poi dov'è è su o è giù non andiamo giù io credo che sia giù però sarà qualche gente si riviaggia no? no dove? ah è da Leonardo vabbè allora mi dispiace messere ma è partito una nobile famiglia veneziana ha commissionato al maestro dei ritratti l'hanno finanziato perché trasferisse l'intera bottega a Venezia è una magnifica occasione molte grazie amico vabbè il mio amico Leonardo è finito a Venezia sono ricomparse le due icone che mi interessano quindi vediamo di completare Firenze girano le missioni con questi cavo di piccioni viaggiatori dovrei tornare anche in Villa a sfruttare allora i nostri nemici si stanno organizzando intendendo incontrarsi da qualche parte in città segui l'unico cospiratore non è noto e fatti con due dagli altri puoi uccidere tutti ma è trovento che non avrebbe mai pensato di direte alla morte di qualcuno non ti va a mandarmi ad ammazzare gente vabbè oh mamma il torque 436 metri di distanza bel lontano eh vabbè mettiamo qui più o meno sappiamo qual è il punto il punto Adio all'inseguimento. 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 Adio all'inseguimento.